L'associazione DILA, da Ischia l'Arte, anche quest'anno ha organizzato il premio 8 milioni, giunto alla sesta edizione, vero Bruno Mancini? Sì, appunto, è la sesta edizione che ha quattro sezioni questa volta, di poesia, di grafica, di musica e di recensioni. E anche questa volta, anche quest'anno, è notizia recentissima di poche ore fa, l'andremo a presentare al Book City di Milano, dove siamo stati invitati ancora una volta. Dunque i compollimenti sono arrivati, quindi adesso bisognerà soltanto, come dire, esaminarli? Sono stati già esaminati e sono arrivati tantissimi, sono arrivati alcune centinaia di compollimenti, sia a livello poetico sia a livello vittorico, sono stati già selezionati, quindi avremo una rossa di finalisti intorno ai 40 di grafica e 40 di poesie. Grazie agli sponsor che ci seguono e che comunque ci stanno dando il loro aiuto, creeremo anche quest'anno l'antologia nella quale inseriremo queste opere e andremo a promuovere a Milano. E poi ci sarà anche ovviamente il ruolo del web. Il web è importantissimo, perché noi con il web abbiamo dei contatti che coprono praticamente tutto il mondo, dall'Australia alle nazioni dell'est europeo, fino all'America del sud e all'America del nord. Quindi non ci sono limiti per quanto riguarda la diffusione, anche perché il numero di persone che comunque collaborano con i nostri progetti è abbastanza esteso. Stiamo parlando di 20.000 persone che fanno parte del nostro sito web, le noise, 20.000 persone che collaborano e che diffondono poi quelle che sono le nostre iniziative attraverso i loro amici, attraverso il web. Dicevamo l'antologia di 8 milioni, che tipo di diffusione avrà? L'antologia di 8 milioni comunque sarà sempre diffusione gratuita, perché noi di gratuita lettura, quindi lo andremo a distribuire nei punti nevralgici dove comunque c'è un passaggio, devo dire, negli studi commerciali, nei commercialisti e anche su alcuni veicoli di trasporto in modo da poter rendere questa iniziativa diffusa sul territorio. Allo stesso tempo comunque diventerà qualcosa di importante a livello di web, senza aver mai, non oggi, mai avuto una lira di contributo pubblico, mai aver chiesto una lira di iscrizione al nostro gruppo, alla nostra associazione e mai aver chiesto una lira di iscrizione per partecipare ai nostri premi. Quindi è tutto affidato agli sponsor.